Un tè caldo è una coperta, una parola è una mano tesa, piccoli gesti che nelle fredde notti scaldano coloro che non hanno un tetto sotto al quale ripararsi. Nel mese di dicembre ad Arezzo, oltre alle dimore invernali, in collaborazione con Caritas parte anche il servizio delle unità di strada curato dalla Croce Rossa. I volontari presidieranno il territorio municipale andando incontro alle persone che per le più varie ragioni non conoscono le opportunità di aiuto che Arezzo offre oppure decidono di non seguire percorsi di inclusione. Una lettura del territorio che tiene assieme lo spirito di solidarietà ma anche quello di sicurezza sociale, avvisando le forze dell'ordine qualora si presentino situazioni di possibile rischio. Il nucleo delle unità di strada della Croce Rossa-Arezzo è a disposizione tutti i giorni dell'anno con due focus di particolare impegno, nel periodo invernale a causa della rigidità del clima e in quello estivo a causa dei forti picchi di calore. Sarà anche possibile segnalare la presenza di persone in disagio chiamando il numero verde nazionale della Croce Rossa 1522, specificando che la segnalazione arriva dalla città di Arezzo. Nel frattempo anche le porte del dormitorio di Via Fonte Veneziana si sono riaperte per dare a coloro che non possono contare su una dimora fissa dove trovare rifugio e protezione per la notte.